Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai esagerare un pezzettino? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cosa fa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cosa fa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle ande? No, bovino della gallura, no! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci vengo mai, eh? Bello questo vino! Vino di una volta! Fai esagerare un pezzettino? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cosa fa questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No, aleatico dell'elba? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non c'entro mai, eh, mmm, che cioccolato? Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che bostino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che bostino questa roba qua, cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca. Con questo video ringraziamo tutti e vogliamo dire che per noi il cibo è qualcosa da assaggiare, da condividere, da gustare insieme. Ringraziamo e ringrazio i bambini della Scuola Sacro Cuore di Luserna.